buongiorno caro amico arcadius tanti auguri come oggi un giorno di festa in questa casa io voglio cantare per te ricordo di questa data così speziale una canzone di donizetti che è un molto simpatica è per te me voglio fare una casa in mezzo mare me voglio fare una casa in mezzo mare fra becata di penne di pavone fra becata di penne di pavone Doro ed argento l'isca mine fare Doro ed argento l'isca mine fare e di pietre preziose di barcone e di pietre preziose di barcone Quando un annella mia sembra affacciare quando un annella mia sembra affacciare Ognuno dice, ognuno dice, ma spontanusone. Un abbraccio grande dalla Spagna e un buongiorno in questa data speciale per te e per i tuoi amici e famiglia. Ciao!